Il Fritzbox permette di utilizzare tutti i telefoni comuni in modo semplice con molte funzioni comfort. Il Fritzbox offre infatti porte per telefoni analogici, fax e telefoni IP, ma persino per citofoni e centralini telefonici. I dispositivi della famiglia Fritzphone si armonizzano in maniera ottimale con il Fritzbox. La moderna base DECT permette di collegare con poche operazioni anche modelli senza fili di altre marche. La connessione al Fritzbox è inoltre codificata in fabbrica in modo sicuro. Dall'interfaccia utente del Fritzbox puoi configurare qui, in modo molto semplice, un nuovo dispositivo telefonico. Seleziona prima quale tipo di telefono desideri utilizzare. Se al Fritzbox è collegato un telefono analogico o ISDN, seleziona qui la presa utilizzata. Nelle Fritz clip dedicate puoi vedere i dettagli sulla connessione di telefoni DECT o applicazioni IP, come ad esempio la nostra Fritz App Phone. Assegna un nome al tuo dispositivo, così potrai ritrovarlo facilmente anche in seguito utilizzando quel nome, ad esempio se vorrai configurare l'inoltro di chiamata. Il passaggio successivo riguarda la verifica della connessione del telefono al Fritzbox. Il telefono squilla. Nella finestra di dialogo seguente puoi assegnargli un numero. Poi decidi con quale numero di telefono si devono svolgere le conversazioni da questo apparecchio. Anche della configurazione dei numeri di telefono si parla in una Fritz clip. Tutti i numeri di telefono creati in precedenza saranno poi disponibili qui. Alla fine puoi decidere se il telefono deve squillare per tutte le chiamate su tutti i numeri di telefono disponibili oppure se con quel dispositivo desideri prendere soltanto le chiamate di un determinato numero. Questo è tutto. In questa pagina sono di nuovo riepilogati tutti i dati che puoi controllare prima di confermare definitivamente la configurazione con Applica. Grazie. Grazie. Grazie.